ciao ragazze bentornate ben trovate nel mio canale youtube pensieri fatti a mano perché non mi conosce io sono michela questo appunto il mio canale di youtube e si chiama pensieri fatti a mano allora sono contentissima devo dire la verità ho un mucchio di idee che mi frullano nella testa e qualcuna finita realizzata quindi oggi vi do una news per me importante spero vi piaccia e la troverete disponibile già nel prof questo fine settimana quindi tra venerdì e domenica nella boutique di oana e per chi non lo conoscesse ma credo che tante quasi la maggior parte di voi la conoscano l'indirizzo della boutique è www.annaboutique.com allora me ne sono inventata un'altra perché quella combinazione di filati che ha fatto vedere oana ispira ispira perché è una meraviglia quindi sono orgogliosa di presentarvi il mio nuovo progetto che è questa sciarpa guardate un po questa si chiama sciarpa rosatea guardate che cos'è venuto fuori no ragazzi cioè guardate il bordino allora è una sciarpa come usano adesso no quindi dritte lineari non troppo larghe perché adesso quest'anno usano queste sciarpe molto molto lunghe e non eccessivamente larghe quindi io ho creato guardate sono mi piace un sacco allora ai due bordi a questo punto fatto all'uncinetto e poi è tutta maglia rasata ai ferri con questo disegno che si ripete vedete la sospettate vedete è lunga lunga perché è due metri e 40 se non mi ricordo male e adesso me la metto così ragazzi mi piace un sacco cioè sono proprio quelli che usano adesso da portare con un doppio giro intorno al collo molto morbide ragazzi io impazzisco per queste cose guardate eccola qua parte che c'ho il collo sotto che non il colletto della maglietta tutta maglia rasata con questo disegno a noccioline tutto fatto ai ferri semplicissimo vi faccio ovviamente ci saranno le istruzioni scritte ma vi faccio anche un piccolo video tutorial insieme sia per poter fare il punto nocciolina sia per questo meraviglioso bordo all'uncinetto da mettere in fondo ragazzi è di una morbidezza che non potete capire sembra seta cioè non lo so bisogna toccarlo per rendersene conto quindi questo è il mio nuovo progetto la sciarpa rosa tea ne sono molto orgogliosa eh ragazze guardate quando uno crea queste cose così d'amblè cosa ne pensate? bella eh bella 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 mi piace veramente tanto quindi ve la faccio vedere oggi è appena finita quindi proprio fresca fresca finita da due giorni mi sembra quindi guardate che cos'è ovviamente io ho questo colore sapete che io amo i toni naturali però ci saranno tanti colori tanti 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 ne metterà Oana nel kit diversi in modo che ognuna di voi possa scegliere mi piace proprio tanto ma è di una morbidezza ragazze che non potete capire non potete capire le noccioline sono facilissime da fare i ferri è proprio una cosa facilissima quindi allegati trovate nel kit che uscirà appunto in settimana ricordatevelo sciarpa rosa tea è mia creata proprio in esclusiva come tutti gli altri miei progetti in esclusiva per la boutique di Oana trovate istruzioni scritte un piccolo mini video tutorial per i due punti quindi sia per il punto noccioline che per il bordo in fondo per il resto è tutta assolutamente maglia rasata io uso i ferri circolari anche quando lavoro i ferri di andata e ritorno lo sapete però nulla vieta di farla chi non riesce ad usare i circolari farla con i ferri classici bella eh mi piace proprio tanto quindi vi ho dato questa news che troverete appunto nel fine settimana nella boutique di Oana la mia rosa tea bellissima bellissima me lo dico da sola me lo dico da sola perché sono troppo innamorata di queste cose io eh bene bene quindi insieme alle altre mie creazioni chiamiamole così no quindi la winter sea che avete preso in tante vi ringrazio tutte perché quella rossa è spettacolare ora aspetto di vedere anche gli altri colori quindi trovate la winter sea trovate la coda di drago light and shadow che anche quella è meravigliosa con quel filato pazzesco e oggi cioè oggi da venerdì dal fine settimana insomma tra venerdì e domenica trovate anche la sciarpa rosa tea è leggerissima sono contenta sono contenta fatemi sapere cosa ne pensate questo era per darvi il mio nuovo progetto quindi sono un continuo a produrre a produrre a produrre ho la testa che esplode 10.000 progetti ne ho già iniziato un altro mi piace mi piace soprattutto mi piace perché voi mi date soddisfazione quindi poi alla fine no quindi ricordatevi rosa tea nella boutique di Oana www.anaboutique.com poi io come al solito pelucchi in bocca come se non ci fossero domani di lana vi volevo far vedere un po invece darvi un po di idee al di là dei miei kit cioè delle mie creazioni ho trovato ho trovato aprendo l'armadio io ho un mucchio di scialli sapete che li adoro no quindi l'altro giorno dovevo uscire volevo cambiare un po e ho preso questo guardate un po sapete che io esagero con le dimensioni guardate un po qua questo è uno scialle che io ho fatto un po di tempo fa con un tutorial di Oana meraviglioso questo è in cotone io poi alla fine siccome è proprio tanto grande guardate un po in fondo ho fatto due nodi nei due angoli quindi quando lo metto ha anche questa particolarità allora questo è in cotone nulla vieta di farlo in lana cioè voglio dire io questo l'avevo fatto in cotone ma ognuno guardate che bello che è è meraviglioso io poi le ragazze gli scialli poi ho trovato questa cosa qua no perché gli scialli hanno tanti modi di indosso ho trovato questa cosa anche del del nodo che non so dove l'avevo vista che vedete mi piace molto allora questa qui la potete fare in 10.000 versioni allora volete la versione invernale perché no si fa in lana con le cake maya ad esempio io qua ho questa vi dico anche qua io ne ho usato un'esagerazione perché cioè ci sto quattro volte dentro ecco occhio bene che dipende poi come voi come la fate queste qui sono adesso vi dico anche 100 grammi 375 metri qua dice ferri tre e mezzo quattro è un filato molto fine molto 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 bello aspettate che faccio prima a fare così perché se no non riesco a leggere vi volevo dire la composizione questo è 25 per cento alpaca 25 per cento lana e 50 per cento poliacrilico è una meraviglia di una morbidezza incredibile adesso scusate un po messa così però appunto questo scialle potete farlo con le maya per la lana potete farlo in cotone anche voi guardate che meraviglia cosa qua queste sono le cotton degradé ci sono tantissime gradazioni quindi in cotone si può fare con questa scegliete il colore qua dice ferri tre e mezzo 200 grammi 800 metri questa è una cake in cotone meravigliosa delle tonalità pazzesche quindi anche questa potrebbe venire bene se la volete in cotone io scialli ne faccio un po in tutte le maniere sia in cotone che in lana e poi li uso anche in inverno quelli in cotone devo dire la verità perché comunque non è che uso lo scialle per tenermi caldo no lo scialle lo uso come vezzo quindi anche se in cotone come questo ad esempio sta bene ma guardate che bello che ha questo disegno ogni tanto tira ogni tanto sempre ha delle ideone questo è molto molto bello semplice cammina su tutti i punti alti è catenelle molto semplice da fare vi lascio poi il link queste sfumature sono meravigliose quindi maya per la versione invernale in lana oppure cotton degradé per la versione in cotone scegliete la vostra tonalità ne trovate per i beati e questa è una ci tenevo a farvelo vedere perché ogni tanto poi li tiro fuori li uso no quindi poi mi viene in mente dico questo posso farlo vedere alle ragazze che poi ne ho fatto un'altra questa qui è una sciarpa sempre in cotone che ho fatto con il punto foglie di oana io amo questo punto foglie devo dire la verità l'ho usato tanto per tanti progetti guardate anche questa in cotone con queste tonalità che vanno dal panna al beige al grigio arrivano poi al marrone scuro anche questa una sciarpona una stola si forse questa è più una stola perché è proprio abbondante guardate che bello che al punto foglie no però voglio dire ragazzi una meraviglia una meraviglia anche questa è molto bella poi avendo tutte queste sfumature guardate che bellina che questa è un'altra idea di quelle da poter fare o in lana o in cotone sempre con secondo me in lana ma con un filato sottile non spesso potrebbe essere lo stardust potrebbero essere appunto le maya quella che vi ho fatto vedere prima per il cotone assolutamente le cotton degradé però sono secondo me punti che rendono con un filato piuttosto sottile quindi tre e mezzo quattro al massimo non di più se no poi diventa troppo pesante dovete anche considerare la misura la lunghezza quindi poi se no diventa una cosa pesante da mettere addosso quindi questa è un'altra idea non male io spero che vi piacciano tutte queste cose queste idee che vi do io sono innamorata di tutti questi scialli anche questa è molto 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 bella guardate particolare anche questa semplicissima sono tutte cose che si lavorano abbastanza velocemente non sono cose complicate che bisogna stare lì perdere delle ore a fare a fare i conti e questa è una poi ne un'altra questa qui è stata una di quelle cose che ho hanno fatto il tutorial la messa avete presente quando continuate a guardare una cosa dite bella sì bella poi la faccio poi ti ripassa davanti però bella poi la faccio alla fine l'ho fatta e devo dire che credo ne rifarò un'altra perché mi sono divertita talmente tanto ragazze ma talmente tanto a fare questa sciarpina guardate aspettate che semplicissima perché sono maglie dritte e noccioline o punti puff non sembrano più noccioline guardate che bellina che è quindi praticamente c'è una striscia normale una con i punti puff e poi man mano si collegano quindi molto particolare molto bellina anche questa qua e io continuavo a guardarla mi piaceva mi ispirava questa cosa qua semplicissima perché le cose semplici sono le più belle è inutile stare a dire cioè inutile avere delle robe complicate che poi non siamo in grado di fare non siete d'accordo con me cioè facciamo delle cose semplici le cose semplici sono le più belle secondo me vi ripeto quelle che rendono di più che danno più soddisfazioni e anche con le cose semplici si possono fare delle cose meravigliose e questa ne è la prova quindi tra l'altro parte da una striscia vedete più larga e poi man mano si arriva delle strisce più piccine io la trovo molto molto carina questa proprio una sciarpina è anche questa è di johanna anche questa si può fare nelle due versioni questa io ovviamente l'ho fatta in lana con le maia ecco per questa qui secondo me sarebbe anche indicato l'hour tribe ci sono talmente tante tonalità perché io qui ho fatto cioè il panna quindi i gomitoli di colore diverso no invece secondo me verrebbe anche molto bene con una tinta sfumata quindi con un hour tribe che ve lo ricordo sono 100 grammi 420 metri uncinetto due e mezzo tre secondo me anche con l'hour tribe viene una cosa sfumata carina non avete il cambio di colore bello 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 ci sono talmente tante tonalità dell'hour tribe e c'è anche in tinta unita però è quindi volendo potete fare la stessa cosa che ho fatto io invece che con lo sfumato con la tinta unita bello sì sì questa è un'altra idea poi ho finito ve lo volevo far vedere finito non ho messo le frange perché lo metterò stando quando sarò operato al ginocchio e quindi con le frange poi rischio da seduta di incastrarmi l'ho finalmente finito il mio sciallone con il punto di oana anche questo guardate a losanghe semplicissimo anche questo ragazze è semplicissimo io per questa dimensione esagerata come al solito ho usato due cake quelle che vi avevo detto la volta scorsa che stanno andando esaurite quindi se avete voglia di farlo trovate tra l'altro solo questa tonalità qua non ce ne sono altre poi vi lascio nella descrizione tutti i link così vi porta direttamente al filato però il suo sostituto è questo che secondo me viene benissimo anche con questo che è il creative melange il wonder ball sono 200 grammi 640 metri ferri del 5 come si lavora questo ad esempio identico e a tantissimi colori quindi questa qui potete rifarla tranquillamente se non trovate più quello che ho usato io questo qua meraviglioso meraviglioso questo filato qua quindi anche questa potrebbe essere un'altra idea anche questa si può fare in cotone si può fare in lana cioè lì poi si gioca con con i filati no sarebbe bella anche con lo stardust una cosa del genere no poi vi ripeto il tutorial originale ha le frange io non le ho messe magari poi le metterò più avanti non le ho messe perché appunto la userò stando in casa dopo l'intervento al ginocchio quindi sarò seduta e ho pensato con le frange magari mi incastro quindi siccome è nata per quello la tengo per quello poi vi volevo far vedere una cosa anzi due ne ho da farvi vedere che devo dire ho fatto un po di tempo fa e ho usato tantissimo uno è questo ho visto che tra l'altro mi sembra tina l'ha rifatto con lo stardust ultimamente è il cardigan tramonto d'estate eccolo guardate che meraviglia questo anche un modello di oana è tutto a maglie alte quindi semplicissimo la sua particolarità è questo collo che lo accompagna per tutta la lunghezza è un po sciallato ora me lo infilo magari indossato si vede meglio io l'ho usato l'anno scorso ragazze non potete capire quanto non potete capire quanto ecco ora mi alzo eccolo qua guardate un po molto carino con uno spillone no guardate che bello che è molto particolare questo questo decoro questo disegno e poi tutto il resto è tutto a maglia alta ma trovo eccezionale l'idea che ha avuto di questo collo sciallato praticamente perché sembrano scialle meraviglioso meraviglioso ecco questo qui l'ha fatto ultimamente mi sembra proprio tina datemi conferma e tina sei stata tu che l'hai rifatto con lo stardust che è venuto fantastico ma guardate un po nessuno vieta di rifarlo con il fluffly che ha questo filato è un cotone felpato tra l'altro si vede che è un po sberluccica un pochino perché no allora vi dico il fluffly sono 150 grammi 420 metri ferri del 4 io la trovo un'ideona a tantissimi colori può anche essere fatto a ve la prendo ragazze perché non potete capire ve la faccio vedere subito perché potrebbe anche essere fatto con questa che è una cosa meravigliosa ma voi conoscete già io lo so ecco guardate un po la questo qua si può fare benissimo anche con la cake quelle nuove alpaca degrade di oana sono di una morbidezza che non potete capire alpaca degrade 200 grammi 800 metri ferri del 4 allora io qua ho già avviato un progetto con questa però guardate un po questo si può rifare anche con questa qui meravigliosa pensate fare ad esempio questo al centro a questo marrone beige quindi tirarlo fuori e fare tutto il bordo di questo colore tutta la maglia sfumata con gli altri novi nella cosa meravigliosa ragazze è di una morbidezza questa cake allora vi do allora ve l'ho già detto ferri del 4 lana alpaca cioè ma chi di voi l'ha presa ditemi un po guardate è di una morbidezza incredibile io sto facendo che avevo preso l'idea da oana e mi è piaciuta molto lo scialle a cerchietti guardate che mi piace tanto questo sciallino è devo dire fatto il dritto è questo fatto a cerchietti così è molto carino questa cake è eccezionale e secondo me questo cardigan rifatto con questa cake ragazze viene una cosa spettacolare scegliete il colore abbinate adesso sto morendo di caldo me lo devo ma anche da voi fa così caldo questo qui ricordatevi di andarla a vedere perché merita è veramente una cosa particolare interessante interessante ok ah ecco vi volevo far vedere dare un'altra idea sempre per il cotone per questo qui ad esempio perché no le candy cane se la volete in cotone eh è una bella idea eh un'ideona anche questa candy cane è cotone 50% cotone 50% acrilico 850 metri sono circa 200 grammi però ha delle bellissime tonalità quindi tenete presente anche questo col cotone non è male poi vi do un'ultima idea dopodiché basta perché ve ne ho date tantissime oggi eh guardate qua questo qui era un era un maglioncino di oana con il punto frecce ve lo ricordate tanti di voi l'avete fatto eh guardate ora questo filato qui chiaramente io l'ho fatto in boutique non c'è più perché sapete che ogni tanto poi le ditte ritirano i prodotti e non li rifanno più però secondo me questa è un'altra bella cosa da rifare e da fare con i filati che vi ho fatto vedere perché no perché no in cotone con l'alpaca wool eh ma se volete questo qua aveva le perline le perline non le paillettes però le paillettes si possono aggiungere oana ha delle paillettes meravigliose che non pungono oppure ha il filato lurex da aggiungere che secondo me una meraviglia io l'avevo fatto a punta così chiuso davanti e dietro c'è anche la versione ovviamente cardigan ma è meraviglioso ragazze ah e un'altra cosa importante questa forma qua snellisce che non è da sottovalutare eh guardate che bellino bello 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 mi piace proprio proprio tanto ok io non ho dato di idee ragazze eh che vi devo dire io sono sempre più contenta perché il mio canale sta crescendo piano piano ma cresce perché ho un sacco di commenti positivi tante cose tante cattiverie faccio finta di non vederle di non sentirle perché è giusto così sono fiera di quello che faccio sono orgogliosa veramente orgogliosa di collaborare con Oana perché ve l'ho già detto e ve lo continuo a dire è una gran bella persona e soprattutto mi ha dato la possibilità di superare i miei limiti ha creduto in me mi ha spronato e devo dire che è una bella cosa non sapevo non sapevo di avere queste capacità vedete a volte nella vita basta poco e quindi creo creo queste cose che a me piacciono da matti ditemi cosa ne pensate della mia sciarpa rosatea mi piace tanto particolare poi questo connubio tra ferri e uncinetto che però che però ragazze sta benissimo insieme ma la morbidezza voi non potete capire la morbidezza la morbidezza di questi filati voi non potete capire sono dei piccoli gioiellini quindi che vi devo dire ragazze io vi ringrazio vi ringrazio perché siete veramente carinissime sono contenta di essermi lanciata in questa nuova sfida e spero che continuate a seguirmi spero che continuano adesso non riesco nemmeno più a parlare perché sono un po' emozionata devo dire la verità spero che continuino a piacervi i miei progetti continuerò a sfornarne come se non ci fosse un domani e niente spero davvero che continuate a seguirmi come state facendo adesso io non so voi ma ve l'ho già detto l'altra volta è veramente tanto tanto caldo un po' troppo secondo me è però perché siamo ormai a novembre è veramente caldo cioè io sono in maniche corte in casa riscaldamento assolutamente spento che da una parte visti i prezzi e i costi che ci sono in giro però non va bene non va bene allora diciamo che meno male che noi abbiamo il nostro uncinetto o i nostri ferri che ci tolgono un po' da questi pensieri brutti ragazze io cosa vi devo dire andate a vedere mi raccomando nella boutique di Ona andate a curiosare curiosate all'infinito andate a curiosare i kit i filati i ferri mi raccomando ragazze i tulip io li trovo meravigliosi mai più senza cioè io da quando lavoro con quelli galattici fatemi sapere cosa ne pensate delle idee che vi ho dato vi lascio nella descrizione poi tutti i vari link in modo da poter accedere direttamente alle cose di cui abbiamo parlato oggi nel frattempo io vi bacio vi bacio e vi abbraccio tutte indistintamente ci vediamo la settimana prossima e ricordatevi di andare a vedere i kit tac rosa tea sciarpa rosa tea chissà magari faremo anche dei guantini cosa ne dite potrebbe essere un ideone ragazzi adesso vi saluto vi mando un bacio grande ci vediamo la settimana prossima aspetto tutti i vostri commenti meravigliosi ciao ragazzi ciao